Che fine ha fatto l'Ambra? Mi spiace, ancora nulla. Ma il mio piccolo aiutante sta facendo proprio un bel trambosto. Andrà tutto alla perfezione. Basta che tu tenga il tuo cagnolino sotto controllo. È un bravo cane, prevedibile. Bene, tieni il cagnaccio. Ma non venire a piangere da me se ti morde. Merda! Non stai male. Non stai male. Leon, hai cambiato idea? Non ce l'ho nessuno di più troppo. Perfetto. Vabbè, ho dovuto lavorare qua. Non vado ancora. Sì, braterone, non pagionato. E la madonna. Ma dobbiamo uscire. Quindi sotto a destra? Dove devo fare? È proprio l'ora di staccare per me. Dove cazzo, devo andare? Lo salgo su e poi vado un di qua. Sto punto. Sto punto. Fargo più a bala a destra. Ma mica eri un problema con il cagnolino? No. Ultra schilato no. Ero bravo. Suntro valla ma. Belli che sono urlati. Mostri di merda. di tutte e due oramai detto questo a breve staccherò che c'è è ingiocabile e mo continueranno perché chissà di quale compleanno è qua da me quando fanno i compleanni sono 8000 pochino artificio cioè ho visto che mezzanotte devo rompere il pazzo volevo arrivare a 10k ma è impossibile che oggi magari guardate ma quanta vita mi ha tolto sta cosa è che colpini può un po retenerlo capito ecco me cazzo debì io è più o meno due colpi non vogliono capire è in pratica pure la serie anticole è solo in pratica eh vabbè però stafiro ma dove devo andare qualche modo devo salire sopra comunque hanno cambiato tantissime cose dal vecchio resident evil questa roba qua di questi mostri qua mi sa che tipo era su in una cosa in una una caverna tipo era tipo una caverna era che non era in questo stanzione capito mi ricordo che era tipo su una caverna enorme punto a bar e a bar oltre le cazzo comunque queste cose veramente tante ho messo le cazzo mi sembra da colpi qui d'altro è l'ora di farli un attimo magari oggi se farei pompa a te non ce l'ho per fa pompa quando ho sto coso sto coso blu non lo trovo mai mai giuro che se non mi devo comprare la mitraglietta se non mi devo comprare la mitraglietta perchè non ho senso mi renda preso il resident evil sai che resident evil è veramente una gran roba per metterla di ciò a foce nel senso mi serve un po' di cambiamento capito perchè fortnite c'è ciò con 10 ora al giorno mettermi qua a fare un pochino di sta roba sinceramente è gots ma poi pure tipo qualcosa di diverso tipo oggi abbiamo fatto le token con te o no? sono molto divertenti faccio sapere che abbiamo preso cazzi dappertutto però un po' ah forse devo fare un altro oh devo fare un altro coso metto pure il coltello nice devo fare mi sa un altro coso? da dove siamo saliti ma noi infatti non ti dici un cazzo devo via quella pianta però dove è stata sta pianta? vedo che posso andare a pianto facciamo un attimo questa pozione ok magari la usiamo dopo siamo a barà tranquillo barà ma che mitra è mitra? la mitra fa meno danni mi sa ah no la mitra fa cagare lo so però c'ho solo colpi per mitra e carabina a meno che non mi piglia la carabina no qua sto tornando indietro da dove sono entrato vediamo che questo gioco è la cosa più labirintesca del mondo no sicuramente devo andare la devo provare a attivarlo in un altro modo poi faccio arrivare la madonna che palle spraio roba facciamo sta roba comunque sti mostri stanno fanno ancora più danno eh dovete trovare le cose gialle magari devo andare dall'altra parte come faccio ad andare dall'altra parte però perchè qua eh qua non posso andare no qua l'ho già attivata io quindi poi mi fa scendere di qua io dovevo scendere di qua e questo il primo cancello l'ha tolto mo devo andare qua come faccio se salgo di qua ce l'ho e no io ho la stessa parte di prima no eh allora cerca di fermare i colpi pistole pompa con la mitra eh ti mando oh come faccio ad arrivare la per favore come cazzo faccio ad andare la devo andare la tiro da sinistra da sotto cioè guarda tutto il casino dove va mi rompi i coglioni fammi arrivare e basta ho pure in carcere oh mi ammazzavo che oh no vengo in caldo aia ecco qua calma oh eh ragazzi aimlab dai bello sta flicca ah quattro comunque il fatto di farmare i colpi il problema è nell'altro io i colpi li posso pure creare ma li posso creare solo esclusiva però mi ha fatto manco scendere questo pezzo di merda magari devo usare pure lo spray dove devi trovare comunque il coso perché secondo me mi conviene usare il coso usare la mitra mi servono troppo i colpi c'ho sta magnum che non la uso proprio perché non mi dà i colpi e devo comprarmi la mitra per forza che devo fare? questa roba che mantiene il ponte la cosa è mantiene il ponte ragazzi che non la vedo che palla che devo fare? ma che cazzo devo fare? perché sono così stupido? ah sta là perché devo andare a vedere? ah devi? oh dio questi sono duri un pioio si frate questo è difficile vabbè mi devo prendere la granata e i colpi bomb quindi mi devo fare fuori questi qua quindi mi devo fare fuori questi qua nooo è morto è morto nooo 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 rifacciamola 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 che fai di girare la visuale che fai di girare la visuale eh ma qua minchia sto sudando quella merda dopo questo stacco ragazzi faccio un attimo sta parte e poi stacco eh no volendo eh no non volendo un cazzo cioè io se sparo questi qua si attivano se no non si attivano però come faccio a fare? no non posso farlo no dai però madonna che attacchi così ho rimorto il mio coglione quindi ho fatto danno con la granada interessante ho messo malissimo nooo madonna mi più rompicoglioni questi qua è morto cc oh riusci a mettere a 6 anni mi fa sta quattro ragazzo addormento eh sì infatti dovevo cioè vabbè ora mi finisco un attimo sta roba ero messo qua mi finisco un attimo sta sorta di capitolo qua se c'è facciamo che non sono di esco ora vado vado next vado nooo ah questa roba è in non ho quanto vi odio mi devo morire come un coglione vado uccidere avrei fatto nulla con la granada magari avessi fatto qualcosa nooo nooo Ahi madonna quanto ti odio No Devo ricaricare Guarda caso ma lo devo ricaricare Eh ricarica tu Con molta calma E' bravo Aio Madonna Eh questo avanti che mentre muore mi lancia la roba Eh beh deve fare pure umani Se questo non ci voleva Eh sono morto Non c'ho nulla per curarmi Dov'è lui quella cosa Usa No Fermo Uccida un attimo Usa A posto Madonna quanti cazzo ne siete Rompi i coglioni bastardi Niente 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 E' la cosa più difficile del mondo Sto passo E corri per favore Allora più difficile di Tu cazzo del mondo Tio mio Non c'è stata Altra campana No Tanto pare no Tantina che muore moriamo no Adonno Ma io Non ho manco salvato Quindi Non sto attento Perché Non ho fatto Con questo Il salvagaccio Non ho manco fatto Il salvagaccio Quindi devo Aspettare che salvi E poi Staccare Buonanotte Sui Ho messo Salvataccio Un momento Magari Ti prego Aspettare 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 Sei ferita Attento No Prego Continuate No Non furti Mia cara Se fai così La tua sofferenza Aumenterà Vi prego Bastardo A chi nos despedimos Signor Kennedy Non lo so Svegno Non mi salva Così sto Resisti Ashley Storribando Grazie.